benvenuti a una nuova edizione del tg di arte rivista venezia è sotto riflettori di tutto il mondo per la biennale giunta alla sessantesima edizione vediamo i principali eventi espositivi in laguna cominciamo dalla mostra di safet zek safet zek è presente al padiglione venezia con sestante domestico un tributo al suo talento e al suo legame profondo con la città lagunare dove si è stabilito nel 1998 nato a rogatica bosnia e derzegovina nel 1943 zek si formò all'accademia di belle arti di belgrado la sua carriera avviata con successo in jugoslavia fu bruscamente interrotta dalla guerra in bosnia nel 1992 che lo costrinse a fuggire rifugiatosi a venezia riprese la sua attività artistica con nuovo vigore all'interno del padiglione zek ha ricreato il suo atelier uno spazio intimo che permette ai visitatori di immergersi nell'atmosfera creativa dell'artista l'esposizione include opere che attraversano tutta la sua carriera dai periodi più recenti a quelli jugoslavi tra le opere esposte spicca uomo e bimba 2017 un dipinto che rappresenta il dolore della guerra e una serie di mani tese che simboleggiano la ricerca di aiuto il percorso espositivo conduce i visitatori in un viaggio attraverso la storia artistica di zek dagli oli alle tempere da disegni a matita agli schizzi e studi preparatori ogni pennellata e tratto raccontano frammenti di vita e ricordi dell'artista coinvolgendo l'osservatore in un vortice di emozioni in questo atelier della memoria si respira l'assenza di un artista che ha trasformato il dolore in arte la sofferenza in bellezza e ha trovato una nuova patria creativa nella diaspora zek riesce a tradurre con il suo lavoro le urgenze del nostro tempo usciamo dalla biennale per una mostra davvero particolare c'è una retrospettiva dedicata ai costumi di marco polo la leggendaria avventura lungo la via della seta del famoso mercante viaggiatore marco polo protagonista del celebre sceneggiato televisivo della rai degli anni 80 rivive attraverso una mostra al museo di palazzo mocenigo la mostra intitolata marco polo i costumi di enrico sabatini presenta una trentina di costumi originali utilizzati nella serie televisiva insieme a bozzetti e fotografie di scena enrico sabatini il rinomato costumista dietro a queste creazioni straordinarie viene omaggiato attraverso il lavoro di stefano nicolao e del suo atelier nicolao che ha iniziato la sua carriera collaborando proprio con sabatini per la realizzazione dei costumi di marco polo ricorda con orgoglio l'avventura creativa e logistica che ha portato alla creazione di questi abiti iconici la mostra offre anche l'opportunità di ricordare altri due grandi talenti coinvolti nella produzione della serie il regista giuliano montaldo che ha portato sullo schermo l'incredibile scenario veneziano del tardo 200 e il compositore ennio morricone autore della straordinaria colonna sonora attraverso queste esposizioni rivive l'epica avventura della sartoria mobile e rimaniamo ancora a venezia e andiamo a esplorare l'universo provocatorio e affascinante di francesco vezzoli che con le sue opere va oltre i limiti dell'arte contemporanea un'opera d'arte che riprende un capolavoro classico ma lo reinventa in chiave moderna un dialogo tra epoche diverse che sfida il concetto di originalità e invita a riflettere sul ruolo dell'artista contemporaneo è questo il cuore della mostra musei delle lacrime un progetto ideato da francesco vezzoli in maniera site specific per le sale del museo correr di venezia fino al 24 novembre 2024 la mostra curata da donatien grau si basa sulla continua ricerca di vezzoli dedicata al dialogo con il patrimonio artistico e portata avanti in modo radicale innovativo mettendo in discussione i vari modi in cui il patrimonio viene raccontato al pubblico e come la nostra epoca vi si relaziona attraverso le premesse ideologiche di ogni allestimento per esplorare i temi universali delle esperienze umane quasi 30 anni fa l'artista iniziò a ricamare lacrime su immagini di capolavori creando così un proprio museo e sfidando l'idea stessa del museo come affermazione di potere nel museo correr dove l'allestimento moderno mette in risalto la collezione l'artista cala la propria ricerca in una nuova visione con opere che abbracciano oltre 20 anni di produzione artistica da pezzi storici a opere di nuova creazione realizzate appositivamente per la mostra in un'epoca in cui la fruizione dell'arte sta cambiando la mostra di vezzoli ci invita a riflettere su come ci relazioniamo con il passato e come costruiamo il futuro offrendo al contempo una nuova prospettiva sull'arte e sul suo ruolo nella società un viaggio intrigante nel mondo di vezzoli che continua a intrigare e a far riflettere ma cambiamo argomento con una domanda quanto è importante saper scrivere bene per scoprirlo rimaniamo al museo correr di venezia con una mostra dedicata all'arte calligrafica la via della scrittura 700 anni di arte calligrafica tra oriente e occidente è stata curata da monica viero e monica dengo ospitata dalla fondazione musei civici presenta opere di sei artisti contemporanei provenienti d'armenia iran iraq cina e italia il loro lavoro si costruisce attraverso un dialogo con i documenti e i manoscritti antichi conservati dalla biblioteca del museo correr ed esposti eccezionalmente al pubblico il percorso espositivo trasforma la via della seta nella via della scrittura esplorando le diverse declinazioni artistiche storiche e culturali della calligrafia tra i documenti mostra spiccano due preziosi manoscritti del corano miniati a foglie d'oro un volume cinese per il catechismo dei missionari domenicani passaporti e lettere di fede con caratteri islamici in turco ed arabo oltre a un raro esemplare di brani di tripitaca su foglie di palma con caratteri birmani gli artisti in mostra tra cui sarco mini e monica dengo offrono interpretazioni uniche della calligrafia evidenziando la loro relazione con le tradizioni scrittorie dei loro paesi di origine ogni opera rappresenta una fusione di storia e innovazione mostrando come la scrittura a mano possa essere un potente veicolo di espressione artistica un'occasione imperdibile per scoprire la bellezza la complessità dell'arte calligrafica attraverso i secoli sempre a venezia il museo del novecento festeggia gli oltre 40 anni di carriera di burtischi il fotografo noto per esplorare l'impatto dell'attività umana sull'ambiente dopo il trionfo mondiale della mostra antropocene che ha indagato in modo coinvolgente l'impronta umana sul nostro pianeta il rinomato fotografo eduard burtischi prosegue con la sua missione di sensibilizzazione attraverso una straordinaria esposizione il museo del novecento apre le porte alla prima italiana della celebre mostra dopo il debutto alla prestigiosa saci galleri di londra si tratta di extraction abstraction la più ampia antologica sugli oltre 40 anni di carriera del grande artista canadese questa retrospettiva curata da mark mayer offre un'immersione senza precedenti con oltre 80 fotografie di grande formato 13 murales ad alta definizione un'esperienza di realtà aumentata e una sezione inedita il process archive in mostra anche il progetto xylella studies una testimonianza struggente del dramma di ulivi pugliesi colpiti dalla xylella esposto in precedenza per il sostegno alla fondazione silva burtischi uno dei fotografi più rinomati a livello internazionale vanta il suo lavoro custodito in prestigiose collezioni museali in tutto il mondo dalla national gallery of canada a ottawa al museum of modern art di new york un'opportunità per immergersi in italia nel suo affascinante mondo visivo e ora passiamo alla mostra di rick lowe a palazzo grimani uno degli edifici più amati della città lagunare dove arte e architettura si incontrano aperte in concomitanza con la biennale la mostra di lowe presenta nuovi suoi dipinti ispirati dall'architettura rinascimentale tosco romana del palazzo grimani e delle dinamiche urbane veneziane le opere di rick lowe per the arc within the arc la sua prima mostra personale in italia sono ispirati dal passato e dal presente dell'ambiente urbano di venezia dove ha trascorso molto tempo immerso nella laguna il risultato sono rappresentazioni ideali sociali ed estetiche che delineano la geografia di questo spazio evocando il suo spirito esplorando le tele di lowe ci si immerge in un vortice di motivi geometrici che invitano il visitatore a scoprire con pazienza i cerchi ovali archi e reticoli lineari che lo compongono creando un impatto visivo notevole venezia emerge non come un pesce come descritto da tiziano scarpa ma piuttosto come un intricato reticolo di colori forme trame dalle opere dell'artista americano lowe non mira a rappresentare specifici luoghi ma inevitabilmente le opere suggeriscono i riferimenti caratteristici della città come il canal grande il ponte di rialto e piazza san marco tuttavia ci si perde tra le calli veneziani immersi nel fluire del tempo simboleggiato dalla curva questa mostra costituisce un affascinante dialogo tra l'arte contemporanea e il patrimonio storico lowe ha trasformato parazzo guimani in un luogo di connessione dove passato e presente si incontrano arricchendosi reciprocamente le tele trovano una collocazione ideale nel contesto veneziano aggiungendo nuovi significati e prospettive al palazzo e questa era l'ultima notizia grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima edizione a grazie a tutti Grazie a tutti